Ma la Grazia Cognome, perché si chiama così? Ha un senso? Nasce... Devo scegliere il nome dell'azienda e ci deve essere il mio cognome dentro. Quindi molti nel mio mondo la chiamano Cognome Consulting, che ne so... Giorgio Rossi, la Rossi Consulting, che noia! Io volevo fare le fatture con scritto una cosa simpatica. Visto che ho un cognome che può essere simpatico, allora l'ho voluto creare una cosa più simpatica. Tanto non capisce, la gente non capisce. Però mandare la fattura a Interactive Brokers, soddisfatti di lavorare con me, eh, grazie al cazzo. È bello, fa molto ridere, fa molto ridere. Quindi ho pensato a attaccatevi a Cognome, o Grazia Cognome, oppure... Hai capito Kent a DS? Ho pensato, o Grazia Graziella e Grazia Cognome. Grazia Graziella e dovrei fare... In teoria ci sta... Ci sta la mail grazie.a at Cognome.me, ma Cognome.me è il mio Cognome.me. Così, è una cosa simpatica, è una cosa simpatica. Anche fatturare, che ne so, entità serie, banche del tipo... È stato piacere di stare con voi, grazie al cazzo. Divertente. Giorgio Arcazzo, sì, mi chiamo Arcazzo, esatto. Il brainstorming per il Cognome della Gau. Sì, forse ho ancora un documento con la lista delle possibilità. C'era Grazia Cognome, Attaccate al Cognome. C'era... Hai rotto il Cognome. Grazia Cognome è la più polite di quelle simpatiche. Ma anche tuo padre faceva gli stessi jokes sul Cognome. Un po'... Da ragazzino ovviamente è un po' di... Cioè, all'appello a scuola, ha quelle risatine, no? Un po'... Uff, mi sento... Non lo so. Però poi dopo in realtà è divertente. È un po' meme, è divertente. Una volta che esci dalla paura della giudizio altrui, diventa divertente. Ce n'era un'altra... Ce n'era un'altra ipotesi, adesso non mi ricordo. Grazie a... Attaccatevi al Cognome. Alla faccia di Cognome c'era. Vi abbiamo aiutato. Nella firma di tutte le fatture ci sta... Vediamo se... Dai, vediamo, c'è un po' di meme. Quasi quasi cerco una fattura. Vabbè, la faccio del Cognome. Eh... 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 Grazie.